Polini, Alston Turner ancora in difesa individuale la squadra forlivese Alston Turner da 3, mette la bomba Turner 3 punti più 4 per i campioni d'Italia ecco Corrado Fumagalli schema numero 5, si fa vedere Mentasti cercando di eludere la sorveglianza di Turner, cosa non facile sicuramente Allen tira corto, recupera Turner sulla destra per Darren Day chiamata a casa di Darren che va a realizzare il suo quarto punto la scavolini va sopra di 6 lunghezze con inquadratura per Darren Day porta la palla fino a vederla uscire Ario Costa e la impostazione è per Alston Howard Turner 8 stagioni nell'NBA alla sua terza partita nella scavolini sta comportando bene giocatore che spreca poco, che piace comunque è un giocatore totalmente dedito al gioco di squadra come dicevano le sue credenziali Aston Turner dalla lunetta riapre per Darren Day l'Ude la marcatura di Bonamico bellissimo il pallone per Costa applausi meritati alla scavolini che va sopra di 8 lunghezze Lanto Forlì ha 6 punti in classifica 3 vittorie e 6 sconfitte si è giocato quindi da 9 partite e questa è la decima del campionato Aston Turner, grande recupero va in contropiede a segnare il suo quinto punto verità inquadratura per il giocatore chiamato Pro Tempore dalla scavolini a sostituire Darwin Cook grazie a tutti grazie a tutti